Nuove Fiction Rai 2023, Lino Guanciale Raddoppia, tornano passo dal cielo 7 cuori 2. Grande attesa per le nuove Fiction Rai che popoleranno il palinsesto del 2023. Tra i volti confermati in questa nuova stagione televisiva spicca quello di Lino Guanciale. Il remida delle serie TV proposte dalla TV di Stato, pronto a tornare in scena con ben due nuovi prodotti. Spazio poi anche al ritorno di titoli classici del primo time di Rai 1 come nel caso di un passo dal cielo 7 che Dio ci aiuti 7. Tra i ritorni spicca anche la serie Medical Quori 2, con protagonista Pilar Fogliati. Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove Fiction Rai del 2023 rivelano che C.V.I. sarà spazio per il ritorno in scena di Lino Guanciale. Che sarà protagonista di ben due nuove serie televisiva destinate a conquistare il gradimento del pubblico. La prima è il commissario Ricciardi 2, la serie poliziesca ambientata a Napoli. Che sarà riproposta con un nuovo ciclo di appuntamenti inediti a partire dal prossimo mese di febbraio. Lino Guanciale, però, sarà presente anche su Rai 2 con la terza stagione della Porta Rossa. La serie poliziesca che lo vede recitare al fianco di Gabriella Pession. Il terzo capitolo della serie si preannuncia particolarmente atteso dagli spettatori di Rai 2. Dato che sarà l'ultimo di sempre di questa saga, dopodiché calerà il sipario sulla Porta Rossa. E poi ancora, le anticipazioni sulle prossime Fiction Rai del 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di titoli classici della serialità italiana. Tra queste spiccano Un passo dal cielo 7 che Dio ci aiuti 7, due serie amatissime dal pubblico. Che torneranno in onda entrambe con un bel po' di novità. Per quanto riguarda Un passo dal cielo 7, le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena del personaggio di Daniele Liotti. Il quale lascerà spazio alle vicende di Giusei Buscemi, che diventerà così la nuova protagonista della serie. In che Dio ci aiuti 7, invece, ci sarà l'uscita di scena di Elena Sofia Ricci. Alias Suor Angela, le eredini del Convento degli Angeli passeranno nelle mani di Francesca Chillemi, alias Azzurra. Tra le prossime Fiction Rai del 2023 confermate in Prime Time, spicca anche Cuori 2. La serie medical ambientata nell'Italia degli anni 60 con protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci. La messa in onda delle nuove puntate in programma nel corso della stagione autunnale 2023 sulla rete della TV di Stato. Su Rai 2, invece, spazio anche alla seconda tessissima stagione di Mare Fuori 2 con Carolina Crescentini, prevista da febbraio 2023.